Sono onorato di esporre nella città di Arezzo, accanto a quell'incanto formale e cromatico che è il ciclo degli affreschi della leggenda della vera voce. La mostra e il catalogo non vogliono essere una celebrazione, ma semmai un impegno, la risposta di un artetice, per conto di tutti gli artetici e di tutti gli artisti che avrebbero bisogno di essere considerati, come nel passato, protagonisti della società e della cultura. Nell'antica Cina il maestro disse al suo allievo, vuoi fare l'artista? Allora tagliati la lingua. Vedete, alle filosofie orientali, Micheto volentieri, salutando e augurando una bella serata insieme. Nell'antica Cina 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 Grazie a tutti